fermo 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 stia calmo stia calmo non si agite e ci do subito tutti gli euro che c'è nel portafoglio ma che cosa dici minchione? questo non è una da rire si è ringraziata Santa Rosalia un coppio mi stava venendo me lo sa masturba come? masturba te non ho capito che devo fare ho detto che ti devi masturbare e ti metti da mazzo ma hai capito? ma no no subito stia fermo stia fermo come vuole lei ma masturba ma 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 masturba damonene ma masturba te ne ha già una volta ma non ce la faccio ma te l'ho appena fatta non ce la faccio un uomo grande e grosso come a te una volta lo faci masturba altrimenti ti faccio saltare lo cervello masturba te 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 masturba un attimo un attimo ammazzare tutto è ora un po' di concentrazione lo rifeci cammela si santuzzo vieni a casa è questo signore che si è offerto gentimenti di darti un passaggio fino a ciabane grazie Mizzica che femmela mia moglie lo vedi che gente di cuore si trova sempre amo nenne pezzone grazie a tutti grazie a tutti